Non rallentano i contagi nel Salernitano, 49 nuovi casi di positività comunicati ieri dall'unità di crisi della regione Campania per l'intera provincia da Scafatti a Sapri. Nel Vallo di Diano torna a crescere l'apprensione attorno alle possibili conseguenze di un incontro religioso. Pare infatti che dopo la celebrazione di una festa islamica, il Tabaschi o festa del sacrificio, che si svolge ogni anno dal 19 al 23 luglio, siano emersi alcuni contagi. Questo spiegherebbe l'impennata di casi che si è vista a Montesano sulla Marcellana, dove nei giorni scorsi erano stati comunicati una quindicina di positivi, 5 invece quelli segnalati a Sassano. Il numero non escluso che possa crescere all'interno di queste comunità per i contatti già avvenuti tra loro, ma al momento il focolaio è stato circoscritto rispetto all'esterno. Di certo non è la prima volta che il Vallo di Diano deve affrontare il contagio determinato da riti di condivisione. Già ad inizio pandemia il virus arrivò sul territorio dopo un incontro tra neocatecumeni che diffuse rapidamente il Covid tra comuni limitrofi. Adesso si è trattato del rito musulmano che ricorda il sacrificio del montone che Abramo eseguì dopo che Dio salvò suo figlio Esacco. Al momento però nell'intero Vallo di Diano la situazione resta sotto controllo. A Montesano sulla Marcellana, dopo tre nuovi positivi e alcune guarigioni, sono circa 21 i casi sul territorio. 11 quelli di Sala Consilina, 8 quelli registrati a Padula, di cui 3 o 4 extracomunitari forse connessi al rito in questione. Un caso a Teggiano. Intanto nel Golfo di Policastro la situazione resta tranquilla. A Sapri c'è stato un nuovo positivo, un nuovo adolescente legato ad un altro giovane già segnalato nei giorni scorsi. In totale sono 5 i positivi e 5 le persone in quarantena. Guardia Alta, Vallo della Lucania, dove una nuova attività ha chiusi i battenti a scopo precauzionale. Si tratta di una pizzeria che ha comunicato di aver assunto tale decisione dopo che un loro consulente, che ha frequentato saltuariamente l'attività, è risultato positivo al Covid. Sottoposti a tampone tutti i collaboratori, l'esito è stato negativo, eccetto che per una persona. Si è pertanto deciso, si legge in una nota della pizzeria, di rimanere chiusi in modo da ripetere i tamponi e farci supportare dalle autorità competenti per procedere nelle prossime ore nel modo più idoneo al fine di garantire la sicurezza di tutti.